La Giraffa retrocede un po', Bruco molto molto vicino, entra il Bruco, cade la contrada del Nicchio in partenza, la Civetta che esce dai due canapi seguita poi dal Montone, dal Leocorno, dalla contrada della Giraffa e poi c'è lo scosso del Nicchio. Ancora il giro alla curva di San Martino con il cavallo del Nicchio che va a chieda piuttosto ampio, rallenta la Civetta dopo aver affrontato la curva della Casato, rallenta anche la contrada del Leocorno, il cavallo scosso del Nicchio si porta in prima posizione, poi c'è la Lupa, la Giraffa, il Montone, l'Onda, l'Oca, il Bruco e a chiudere la contrada della Pantera. Siamo alla seconda curva di San Martino, gira Akida per la contrada del Nicchio e alle sue spalle c'è la contrada della Lupa con Tempesta e Zenios, curva del Casato, gira il cavallo scosso del Nicchio, gira poi la Lupa, adesso affronta la curva del Casato, il Leocorno, il Val di Montone con una traiettoria piuttosto interna, ma gira piuttosto bene, così fa anche la Giraffa, l'Oca, la contrada dell'Onda, il Bruco, la Civetta, nel frattempo il cavallo del Nicchio Akida che è alla curva di San Martino, la terza curva, ha rallentato la Lupa, ha rallentato il Montone e le altre contrade, gira ancora il cavallo del Nicchio e quindi è il Nicchio e il cavallo Akida scosso che va a vincere la prova generale.